Con questo look un po' Morticia Adams oggi vi parlo di libri da pendolare, cioè dei libri che si prestano molto bene a essere letti sui mezzi pubblici andando e tornando dal lavoro, dall'università, dalla scuola o da qualsiasi altro posto dove uno si reca spesso e che funzionano secondo me molto bene proprio nella situazione dei pendolari classici che se voi lo siete sicuramente conoscete molto bene. Qualche tempo fa mi era capitato di trovare una sorta di giochino che ti chiedeva quanto tempo passi sui mezzi e poi ti diceva se tu passassi questo tempo dei mezzi a leggere in un anno potresti leggere l'Ulisse di Joyce, Anna Karenina, la signora in bianco eccetera. Allora io ho avuto l'impressione che chi ha fatto questo giochino non avesse mai preso la metropolitana da nessuna parte perché magari Anna Karenina ancora ancora eccetera o altri romanzi simili. Ma è assolutamente impossibile leggere l'Ulisse di Joyce con la metropolitana con la voce che in continuazione ti dice prossima fermata, next stop, corrispondenza con sei in piedi, la gente ti urta, magari devi scendere, cambiare e fare un pezzettino di strada anche sottoterra. Assolutamente l'Ulisse di Joyce è impensabile ma diventa difficile anche Anna Karenina secondo me quando uno magari per spostarsi deve magari prendere tre mezzi che è una cosa abbastanza comune. Se uno vive magari nell'Interland in una grande città un autobus per arrivare poi la metropolitana poi magari un altro mezzo di superficie se magari l'autobus ha anche un percorso lungo ma in metropolitana si fanno due fermate poi un pezzo a piedi eccetera magari si sono anche 40 minuti però 40 minuti sono un po' tutti spezzettati non è pensabile leggere un libro che richiede una certa continuità. Quindi io adesso vi propongo alcuni testi che mi è capitato di recente di leggere e che possono funzionare bene secondo me proprio in queste situazioni cioè non in quando uno ha 40 minuti di treno che sale sul treno si siede bello comodo magari con dei cuffioni che isolano anche dai rumori circostanti e in 40 minuti può farsi una bella lettura concentrata però chi vive nelle grandi città sa benissimo che non è una situazione così frequente. Quando io lavoravo nel posto precedente prendevo la metropolitana arrivavo all'otto all'otto mi facevo 5 minuti a piedi sotto per andare a cambiare la metro quindi dopodiché due fermate 5 minuti a piedi ovviamente uno non può leggere due fermate aspetti la metro sali leggi cosa leggi due righe che magari sono le due righe che appena finito di leggere prima quando devi ritrovare il segno e ora di scendere no cioè non funziona secondo me. Perciò vi propongo proprio questi testi che ho letto di recente e che appunto secondo me possono funzionare bene quando uno fa il pendolare ma deve cambiare abbastanza spesso quindi sono delle letture molto brevi e che quando uno scende è arrivato ad un punto dove può ricominciare da capo la volta successiva senza grossi problemi. Il primo di cui vi parlo è un racconto che si trova credo solo in digitale o comunque io l'ho letto in un'unica edizione che si trova su ebook e che si tratta di Bull de Souff. In questa nuova edizione ritradotta da Feltrinelli per una collana che si chiama Zoom e che appunto ritraduce dei racconti classici e però li mette a disposizione singolarmente soltanto in digitale. Tra l'altro ha dei prezzi veramente competitivi quindi al di là che siate pendolari o meno secondo me vale la pena di dare un'occhiata a questa collana. Non sono tanti i racconti però sono tutti i racconti classici sicuramente di grande qualità. Per venire alla mia proposta Bull de Souff è la storia di un gruppo di viaggiatori su una carrozza. Siamo alla fine delle guerre napoleoniche quindi abbiamo delle persone sulle carrozze che sono dei simpatizzanti di Napoleone mentre altri invece sono dei simpatizzanti del nuovo regime o comunque sono delle persone che si adattano un po' dei opportunisti, chi c'è c'è perché alla fine non è una questione di idealismo ma di come loro riescono a gestire i propri affari. E diciamo che la maggioranza fa parte di questa seconda categoria. Su questa carrozza viaggia anche una giovane prostituta di un certo peso, infatti Bull de Souff significa palla di sego che è anche un'altra delle traduzioni in cui troverete questo racconto, questo titolo. Appunto questa giovane prostituta grassottella è l'unica di tutti i viaggiatori a essersi portata con sé un paniere con le vettovaglie per il viaggio tant'è che infatti i viaggiatori saranno bloccati dalla neve, il viaggio durerà molto più a lungo del previsto nessuno di loro ha con sé delle vettovaglie, tutti muoiono di fame e questa ragazza senza farsi nessun problema anche se nessuno fino a quel momento le aveva rivolto la parola perché stiamo parlando di borghesi o pseudonobili che quindi prendono le distanze da lei e fanno quasi finta che lei non ci sia, ci sono anche due suore sulla carrozza e proprio come se tutti la schifassero. Lei comunque offre a tutti da mangiare dalle sue scorte tuttavia vedremo come i suoi compagni di viaggio sapranno poi ripagarla nella seconda parte del racconto questo racconto tra l'altro comincia con una lunga rappresentazione della situazione in cui ci troviamo quindi non parte come succederebbe in un racconto contemporaneo con i viaggiatori già sulla carrozza ma come se facesse un lungo volo dall'alto ci propone tutta la situazione della Francia, della regione e poi ci presenta i protagonisti come un po' si faceva una volta e un po' alla maniera del Manzoni che parte dal ramo del lago di Como per raccontarci poi le vicende di due persone molto semplici, molto comuni è un racconto abbastanza breve, molto semplice da leggere e privo completamente di secondi fini, di cose difficili da capire anche la sintassi è molto semplice, la traduzione è fatta benissimo, super scorrevole quindi si legge facilmente in qualsiasi situazione anche se siete in piedi in metropolitano con in mano il vostro reader non c'è nessun problema a mantenere la concentrazione per tutto lo scorrere della storia magari è una storia che vi va avanti per un paio di giorni se leggete soltanto sui mezzi pubblici tuttavia è una storia bellissima, scritta benissimo, tradotta altrettanto bene e che secondo me vale la pena di leggere, che funziona molto bene in qualsiasi tipo di mezzo pubblico voi prendiate la seconda lettura che vi vorrei consigliare è dedicata proprio a quei lettori da due o tre fermate e poi devono scendere e cambiare tra l'altro anche questa è una collana che si trova esclusivamente in digitale da quanto ho capito e però secondo me anche questa è una collana che vale la pena di tenere d'occhio perché oltre a questo che io vi propongo ci saranno sicuramente altri titoli altrettanto validi e che si prestano perfettamente a essere letti in brevissimi viaggi in metropolitana sulla 90, che ne so, sul mezzo di superficie o comunque anche, che ne so, se uno è in coda alle poste e il suo numero è tra tre o quattro persone quindi davvero una lettura super veloce è una lettura super veloce perché in realtà si tratta di tre racconti brevissimi racconti di tre o quattro pagine anche qui stiamo parlando di classici stiamo parlando di uno scrittore che usava lo pseudonimo di O'Hary un autore americano questa volta e il titolo in questione è L'ultima foglia la raccolta è costituita da tre racconti dello stesso autore che era proprio un autore da raccontini fulminanti di tre o quattro pagine con un finale che colpisce il lettore non lo definirei a sorpresa però un finale abbastanza che colpisce e proprio condensati in tre o quattro pagine questa è la ragione per cui sono perfetti se uno fa tre o quattro fermate ne legge uno qui nella raccolta ce ne sono tre però anche qui il prezzo è super competitivo perché la raccolta è di un euro e 99 ciascuno per cui si possono anche volendo comprare tutti questi raccolte di racconti che si tratta dei corti di Alphaville vi consiglio di andare a vedere sullo store dove voi comprate di solito gli ebook perché si tratta addirittura credo di una raccolta di 40 titoli per cui se trovate qualcosa di sfizioso vale la pena soprattutto se appunto avete questi viaggi a singhiozzo qualcosa di breve si presta alla perfezione qui vi dicevo sono tre raccontini super brevi lui nella sua vita ne ha scritti a centinaia e li pubblicava sui giornali l'ultima foglia è il primo che apre la raccolta tratta di due ragazze non vi dico quasi niente perché altrimenti rischio di raccontarvi tutto tratta di due ragazze che vivono in una condizione di quasi bohème perché in questa mansarda dove ci sono gli spifferi e dove ci si ammala facilmente in una condizione di vita da pittori poi nel secondo racconto abbiamo una fornaia che si prende una cotta per un suo cliente e nel terzo racconto abbiamo la storia di una faida familiare che si trascina da di generazione in generazione tre raccontini che a me sono piaciuti un sacco il terzo soprattutto mi è piaciuto tantissimo anche se non siete dei pendolari vi consiglio questo grande investimento passerete una mezz'ora deliziosa con tre racconti il terzo titolo che vi propongo che è sempre una mia lettura recentissima l'ho letto la settimana scorsa è Gli Inconvenienti della vita di Peter Cameron anche qui si tratta di una raccoltina di racconti perché in questo titolo pubblicato da Adelphi sono contenuti due racconti che in realtà sono stati pubblicati in lingua originale indipendentemente l'uno dall'altro questi racconti si trovano sia in digitale sia in cartaceo e devo dire che trovo la scelta di Adelphi particolarmente azzeccata perché nonostante siano due racconti con atmosfere e personaggi molto diversi l'uno dall'altro l'atmosfera che poi si viene alla fine a ricreare nel lettore si assomiglia molto nel primo racconto abbiamo infatti una coppia gay in cui uno dei due della coppia ha causato un incidente automobilistico nel quale è morta una persona e quindi questo trauma per lui continua a permanere e gli ha in un certo senso rovinato la vita perché non riesce più ad avere delle relazioni il fatto di essere rimasto a lungo a casa per la convalescenza gli ha fatto perdere il lavoro e quindi lui si trova in una situazione drammatica in cui l'unica certezza tra virgolette è la sua relazione sentimentale noi lo vediamo lungo il corso di una giornata tipo in cui va dal suo agupuntore per il dolore incontra un'amica e poi alla sera si ritrova di nuovo a casa con il suo compagno ed è un racconto costellato da dolore dal tentativo di aiutarsi l'un l'altro e dal fatto che fondamentalmente ognuno è l'artefice della propria vita il carnefice e il salvatore di se stesso nel secondo racconto invece abbiamo una coppia marito e moglie anziana che anche loro hanno avuto un grave incidenza nella vita che poi in realtà non era esattamente un incidente ma non vi voglio dire niente perché questa cosa il lettore la scopre pagina dopo pagina leggendo il racconto però sappiamo subito che la coppia ha perso la loro unica figlia e la figlia di lei la loro nipote il racconto comincia quando a questa coppia viene chiesto di ospitare per breve tempo una famiglia che ha perso la casa a causa di un'inondazione e questo fattore scatenante questo episodio costituirà per loro una grossa novità che porterà a notevoli cambiamenti nella loro routine che era diventata un'abitudine anche troppo consolidata sono due racconti scritti con la stessa modalità asciutta molto semplice molto diretta in cui è ovviamente il lettore che trae le conclusioni un po' come nei 49 racconti di Hemingway lui non ci dice esattamente come stanno cioè ci mostra esattamente come stanno le cose ma non ci dice niente quindi è il lettore che trae le sue conclusioni in un modo o in un altro questi due racconti mi hanno ricordato molto questo modo di mettere giù le cose che secondo me è il vero fulcro di una scrittura come si deve e che funziona particolarmente bene con i racconti quindi anche questo è un titolo che mi sento assolutamente di consigliare il quarto titolo di cui vi parlo invece è una lettura che in realtà per me è stato un audiolibro l'audiolibro è una cosa tra l'altro che mi permetto di consigliare soprattutto a chi fa questi viaggi da pendolare in una situazione particolarmente disagevole su treni, metropolitane, mezzi pubblici in cui è anche impossibile pur stando in piedi tenere in mano il reader secondo me in quel caso se voi siete dei pendolari che fate questa vita drammatica tutti spiaccicati va la pena di provare almeno in prova con o di bolo con Storytel che mettono a disposizione dei periodi prova o anche scaricando quegli audiolibri gratuiti che si trovano su LiberLiber vedere se gli audiolibri fanno per voi perché questo è un modo che vi permette di stare comunque con un libro in una situazione in cui non potreste fare nient'altro magari ascoltereste la musica o un radiogiornale non lo so però è molto difficile che uno riesca a fare qualsiasi altra cosa anche addirittura giocare a Candy Crush se la situazione è veramente particolarmente sardinesca quindi appunto io vi dicevo l'ultimo titolo che vi consiglio e di cui non vi ho ancora parlato perché anche questo per me una cosa recente è Acca Badora di Michela Murgia che per me è stato l'ascolto in audiolibro dell'ultima settimana Acca Badora è un libro che sicuramente molti di voi avranno letto e tutti avrete sentito nominare anzi se ditemi nei commenti di che cosa ne pensate perché i titoli precedenti secondo me sono un po' più di nicchia mentre questo non è certo una novità dell'ultimo minuto di cui vi parlo soltanto io dicevamo Acca Badora è la storia di una bambina che lascia la sua famiglia di origine per andare a vivere con una vecchia zitella la vecchia zitella scopriremo nel corso del romanzo è in realtà una donna che sembra se essere semplicemente una sarta ma è una donna che aiuta le persone in fin di vita a lasciare questo mondo la ragazzina questa cosa ovviamente non la sa e la scoprirà in maniera piuttosto sconvolgente avanti nel romanzo ovviamente questa è la storia della loro convivenza del loro rapporto d'affetto e di come questa scoperta cambierà la loro relazione è un ascolto che dura tra le 4 e le 5 ore quindi anche qui si tratta di una cosa piuttosto veloce e che io sono riuscita a concludere appunto nel giro di una settimana voi sapete che io di solito prendo il tram e quindi ho la mia mezz'ora andare mezz'ora tornare tranquillamente di lettura ma questa è stata una settimana un po' diversa dalle solite per questioni personali e quindi mi sono trovata a fare di necessità virtù e quindi appunto con l'audiolibro mi ha permesso di prendere la metropolitana di fare i passaggi sotterranei per cambiare sempre rimanendo sfruttando il tempo dall'inizio alla fine e sempre rimanendo in compagnia di un libro che tra l'altro secondo me tiene molto il ritmo e mi è piaciuto abbastanza è una storia che ecco l'unico difetto che posso dire di questo audiolibro secondo me è che la lettura di Michela Murgia funziona fino a un certo punto perché appunto è sempre lei a leggere il romanzo avrei preferito che fosse letto da un'attrice che fa questo di mestiere non so se la Murgia ha studiato recitazione e non mi sono informata su questo aspetto anzi se voi lo sapete scrivetemelo nei commenti tuttavia l'ho trovato la lettura un po' scolastica mentre appunto il romanzo mi è piaciuto molto mi è piaciuto lo stile che infila qua e là delle parole di dialetto anche qui che non dice troppo dice sufficiente e che ha un bellissimo uso dell'italiano che costruisce proprio delle immagini per cui anche qui devo dire che ho apprezzato molto la scrittura della Murgia non avevo mai letto niente di suo e sono stata contenta di leggere questo romanzo se avete degli altri libri suoi che consigliate particolarmente scrivetemelo nei commenti infine vengo a due consigli per due libri di cui vi ho già parlato che però sono dati secondo me a chi si viaggia sui mezzi ma che non vuole rinunciare al cartaceo e anzi proprio un tradizionalista della carta allora i due romanzi in questione me ne ho parlato proprio quest'anno la morte di Muratidrissin e non si uccidono così anche i cavalli questa è la storia di due amici uomo e donna che si iscrivono a una maratona di ballo per puntare ai soldi che sono messi in palio per l'ultima coppia che riesce a mantenere la maratona questo è una metafora per mostrarci la depressione degli anni 30 e come le persone facevano una cosa qualsiasi pur di riuscire a arrivare a mettere insieme il pranzo con la cena è una storia tragicissima è davvero molto molto triste c'è anche un film molto bello con Jay Fonda che se possibile è ancora più triste del romanzo perché è particolarmente adatto perché anche qui abbiamo delle strutture molto brevi se vedete qui appunto c'è un capitolo che sono tanti questi capitoli qui che durano soltanto tre righe e poi gli altri come vedete anche qua questo è però dopo tre pagine arriviamo a un'interruzione e succede spesso che appunto dopo tre pagine uno si deve scendere dalla metropolitana anche qui è arrivato all'interruzione e può riprendere la lettura successiva sul mezzo successivo senza essersi perso in metà di una frase la stessa cosa si può dire per la morte di Murat Idrissi anche qui infilarlo in una borsa addirittura nella tasca di un giaccone proprio non causa nessuna difficoltà e appunto anche qua abbiamo dei capitoli molto brevi scritti in grande e si leggono proprio facilissimamente uno arriva alla fine del capitolo è arrivato a destinazione e riprende la lettura poi successivamente con il capitolo successivo vi ho già parlato di questo anche di questo romanzo che è la storia di due ragazze che accettano di portare un ragazzo marocchino al di là del confine in Europa durante la traversata della nave mentre loro ovviamente loro lo chiudono dentro il bagagliaio della macchina e poi però come fa già a capire il titolo il ragazzo non arriverà a vivo sulle coste europee e quindi qui ci racconta tutto il pensiero di una delle due viaggiatrici di come questa cosa sia successa di come loro deve essere accettato questo trasferimento e di come fosse la loro sensazione e anche della loro vita di marocchine nate in Olanda e appunto del tipo di vita che si ritrovano a fare consiglio calvissimamente entrambi e anche se non siete pendolari secondo me vale la pena di leggerli e tutti quanti quegli siti di cui io vi ho parlato noi ci rivediamo giovedì con Indie Books e nel frattempo qui vi lascio il modo di guardare un altro video o di iscrivervi al canale e nel frattempo buona lettura a tutti grazie a tutti